79esimo concerto della stagione concertistica Città di Bagheria. In 8 anni sono una media di 10 concerti l'anno, insomma un bel numero. E tra l'altro in questa stagione abbiamo ancora esattamente 7 concerti nel 2024, musici cinema, musiche da film, che l'anno scorso non è stato effettuato per ragioni organizzative. E quest'anno abbiamo la gioia di poterlo realizzare con posti a sedere in chiesa madre, in piazza della chiesa madre in Bagheria, dove il coro Laudate Dominum, presente con dei solisti professionisti, potrà offrire insieme alla banda Mascagni di Bagheria e poi Amici della musica di Belmonte Mezzanio. Sono due bande veste insieme, circa 80 musicisti, 40 coristi, 3 solisti, service, luci, anche che fanno da scenografia alla piazza, per omaggiare in verità due figure importanti bagheresi, una direttamente e una indirettamente bagherese, cioè Giuseppe Tornatore attraverso le musiche di Ennio Morricone. Quindi un grande momento musicale di estrema qualità, dove tutti i musicisti e i cantanti sapranno offrire alla città di Bagheria un omaggio doveroso e decoroso a due figure che hanno fatto proprio della città di Bagheria un importante nome a livello internazionale anche attraverso l'Oscar che è stato ricevuto da Giuseppe Tornatore e chiaramente da Ennio Morricone.